Per gli amanti del vinile ecco una bella particolarità. Questa è una chicca, una stampa della UR Underground Resistance. Di solito i vinili partono, voi lo sapete benissimo dall'inizio, e invece vedete, termina, oppure parte proprio dalla fine, quando termina il disco, fa l'inverso. Grazie a tutti. Come vedete la spirale è completamente all'incontrario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.